Vorrei che mi ascoltassi, per favore. Un camion ha colpito la tua auto. Cosa? Sei morto, Michael. No, non posso morire. Ho delle cose da fare ancora. Sfortunatamente sei morto single. E allora? Soltanto in coppia si passa oltre. Angelo! Michael! Devi trovare la tua anima gemella. Sei morto! Ti trovo in forma. È una cosa fantastica. Sono contento che tu sia morto. E dovrei chiedere a ragazze morte di uscire. Certo. Perché no? Come faccio a trovare qualcuno se in pratica non vedo nessuno? Non ti abbattere. Strizza bene gli occhi e vedrai chiunque tu voglia. Vuoi vedermi e sentirmi? Non siamo anime gemelle, mi dispiace. Che c'è? Pensi che anche l'universo ti trovi troppo per me? No, forse è che io sono viva e tu sei morto. Oh, my dear. Please, would you be mine? Oh, 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 merda! Kadarrinter. No c'è? No c'è? No c'è?